Bene, vi siete mai chiesti come aggiornare il vostro browser Google Chrome? È semplicissimo, teniamolo aggiornato, che è molto consigliata come cosa. Clicchiamo sempre su Personalizza e controlla Google Chrome in alto a destra. La quarta e ultima voce in basso, Informazioni su Google Chrome, non ci dà solo le informazioni sulla versione, che attualmente è la versione 21, la mia. Magari quando vedrete il vostro video Google Chrome sarà già arrivata alla 22, alla 23, chissà dove, alla 30, chissà. Comunque, Informazioni su Google Chrome ci dice, innanzitutto la nostra versione, che ci controlla in automatico se il nostro browser è aggiornato. In questo caso, proprio qualche giorno fa, mi sono scaricato l'ultima versione, la 21, 0 e via dicendo. Nel caso in cui sia uscita una versione più recente del nostro browser, Google Chrome ci avvertirà qua sotto e ci dirà, guarda che c'è una versione più recente, la vuoi installare? Quindi lui ce la scarica in automatico, spesso sono qualche mega, quindi qualche 30 secondi, qualche minuto di scaricamento. Dopodiché sta a voi decidere se installare la nuova versione e quindi riavviare il browser oppure no. Vi apparirà proprio un bottoncino qua, invece che l'ok, vi apparirà installa e aggiorna. Ecco fatto come si fa ad aggiornarlo. Vediamo nella prossima video ripetizione come gestire la cronologia e come impostare la pagina iniziale. Quindi alla prossima video ripetizione, ciao!